Rivisto il cronoprogramma dei lavori su corso Vittorio Emanuele a Salerno, nei giorni scorsi l'amministrazione ha per due volte convocato la spinosa, la ditta che sta eseguendo, gli interventi di rifacimento della pavimentazione sulla principale strada cittadina, un incontro necessario per confrontarsi su lavori che sono fondamentali, importanti e che si stanno svolgendo ormai da mesi nel centro della città, mesi in cui però non sono mancati alcuni problemi come quelli ai sottoservizi che hanno interessato il primo lotto di interventi, problemi che hanno inevitabilmente comportato un ritardo nella conclusione dei lavori sul primo tratto del corso cittadino ma che devono necessariamente essere chiusi entro il 2025 per i finanziamenti, un incontro propositivo in cui si è manifestata un'unione di intenti tra amministrazione ed impresa perché i lavori in corso daranno un nuovo volto alla strada dello shopping sale e Arnitano ma anche perché intanto stanno causando non pochi disagi soprattutto ai commercianti. La pavimentazione su uno dei lati del primo lotto è già stata posata, dalla prossima settimana si proseguirà con la parte centrale con la previsione quindi di chiudere il primo lotto, quello compreso tra il palazzo Exenel e il primo attraversamento stradale, entro la metà del mese di settembre. Intanto si sta già lavorando agli scavi fognari del secondo lotto, escavatori nazioni quindi anche in via Papio con la conclusione prevista prima della prossima edizione di Lucida Artista e quindi nel mese di novembre. Quando la Kermess Natalizia sarà conclusa, d'inizio febbraio, si proseguirà sull'ultimo tratto, il terzo lotto, comprese le traverse di via Francesco Conforti, via De Luca, via Raffaele Conforti e via Torretta fino ad arrivare poi alle soglie di piazza Portanova, appunto entro dicembre 2025. L'amministrazione si è impegnata a vigilare e monitorare i lavori affinché questi proseguano secondo cronoprogramma così da evitare il prolungarsi dei disagi per commercianti, residenti e turisti. Grazie a tutti.